A diversi mesi dalla sua nomina e con il nuovo anno inaugurato, quali sono le sue impressioni da segretario di Stato e quali sono le sue priorità? Sì, ho cominciato nel novembre scorso, quindi più o meno sono due mesi che mi trovo in questo incarico. Potrei dire che si tratta ancora della fase di avvio, una fase dedicata soprattutto allo studio e all'approfondimento, alla conoscenza e all'approfondimento dei vari problemi attraverso sia la documentazione e attraverso soprattutto l'incontro con le persone. Ecco, mi rendo conto che si tratta di un servizio, di un servizio molto impegnativo, di un servizio molto esigente, pieno di responsabilità. Ma vorrei sottolineare soprattutto che si tratta di un servizio molto appassionante in questa nuova stagione della Chiesa inaugurata dal pontificato di Papa Francesco. E per quanto riguarda le priorità, come segretario di Stato, primo e diretto collaboratore del Papa, non possono essere altro che le priorità del Papa. Quelle priorità sulle quali ha insistito fino dai primi giorni del suo pontificato e che poi ha raccolto in maniera, diciamo, più organica nella Evangelii Gaudium. Direi che la priorità è la trasformazione missionaria della Chiesa, una Chiesa in uscita, come dice lui, una Chiesa in stato permanente di missione. E questa caratteristica, questo rinnovamento ecclesiale, questa conversione pastorale, deve riguardare tutte le strutture della Chiesa. E deve riguardare anche la Curia Romana, e deve riguardare anche la diplomazia ecclesiastica, che sono un po' i due ambiti principali in cui si colloca l'attività del Segretario di Stato. E poi vorrei dire, ecco, che spero si possa fare tutto con il cuore, ecco, veramente che riusciamo a fare tutto per il Signore e che facendo così riusciamo a toccare il cuore delle persone. Papa Francesco, sin dai primi mesi del suo pontificato, sembra aver toccato il cuore dell'uomo bisognoso di misericordia e comprensione pastorale. Anche dal punto di vista della diplomazia possiamo annotare delle pagine nuove di storia per la Santa Sede? Sì, io direi che ogni giorno si scrivono pagine nuove con la storia della diplomazia della Santa Sede. Pagine nuove che si aggiungono alle pagine del passato. Vorrei ricordare in questo contesto l'anniversario che cade quest'anno, dell'inizio, dei cent'anni dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Il Papa ne ha fatto riferimento anche durante il discorso al Corpo Diplomatico il passato 13 gennaio. Una pagina evidentemente gloriosa, ecco, se si pensa all'immensa opera compiuta da Benedetto XV per fermare quella che lui chiamava l'inutile strage. Ecco, per quanto riguarda le nuove pagine, io direi che va sottolineato prima di tutto i numerosi incontri che in questi primi mesi del pontificato ci sono stati con capi di Stato, con capi di governo, con responsabili delle organizzazioni internazionali. Ecco, desiderosi di incontrare il Papa Francesco e di confrontarsi con lui sui grandi problemi, sui grandi temi e le grandi sfide dell'umanità. E poi vorrei ricordare in modo particolare, credo che non è imprescindibile farlo, la giornata di preghiera e di digiuno per la pace in Siria. Ecco, questa è stata una pagina veramente importante nell'attività della diplomazia, diciamo, impulsata per il Santo Padre stesso, dal Santo Padre stesso, ecco, che ha espresso la forza morale, in fin dei conti, proprio dell'attività della Chiesa. Il Papa che ha saputo raccogliere, interpretare il grido di pace che sale dalla martoriata popolazione siriana e che sale da ogni cuore desideroso di vivere, diciamo, in maniera umana, in maniera solidale la sua vicenda. E quindi, ecco, ha saputo interpretarlo, ha saputo tradurlo in un grande movimento che ha portato anche i suoi frutti, dando esempio di una forza morale, di una forza spirituale, che è un po' quello che la Santa Sede testimonia nei confronti delle sue relazioni con gli Stati. Parlando di diplomazia, Papa Francesco utilizza i termini etica della solidarietà e utopia del bene. Qual è un suo commento? Il Papa si costituisce in questo caso come la coscienza morale un po' dell'umanità, no? E mi pare, ecco, riprendendo un po' l'affermazione che facevo prima, ma come questo richiamo che gli fa è un richiamo che viene ascoltato, che viene ascoltato anche da parte, ecco, delle cancellerie, da parte dei governi. Il fatto che molti capi di Stato e di governo vengano qui significa appunto che c'è un'attenzione speciale a tutto quello che il Papa dice e a tutto quello che il Papa fa. E io credo che anche a livello di diplomazia, a cui io vorrei sottolineare, a volte si vedono, no? Si vede come questi appelli magari del Papa sembrano non trovare una risposta immediata, però voglio dire che c'è anche un grande desiderio di bene, che c'è anche un grande sforzo veramente per costruire la pace presente anche nel mondo, no? Penso per esempio a tutto lo sforzo della diplomazia multilaterale nei campi dei diritti umani, ecco, per salvaguardare i diritti umani, nel campo del disarmo, no? Per evitare una tragedia nucleare, nel campo delle regole del commercio, nel campo dell'ambiente. Ecco, credo che questi richiami del Papa alla fine, che d'altra parte sono sempre stati caratterizzanti, l'attività dei pontefici anche nel passato, trovano un'accoglienza e lentamente si fanno strada nella coscienza e nell'attività dell'umanità. La diplomazia dovrebbe unire non solo i popoli, ma anche le persone. A suo avviso, quali sono i principi fondamentali che dovrebbero essere alla base di quella che possiamo definire una diplomazia umana? Sì, la diplomazia deve essere umana, quindi deve, credo, avere al suo centro la persona umana. Ecco, il primo principio mi pare questo, no? E vorrei dire che il Papa Francesco ci spinge a considerare questa centralità della persona umana non in maniera astratta, no, l'uomo come tale, ma ogni singolo uomo, ogni singola persona deve essere al centro della nostra azione, soprattutto le persone dei poveri, le persone degli emarginati, le persone dei deboli, le persone più vulnerabili, le persone che non hanno voce. E io direi che i principi, ecco, la centralità della persona devono essere proprio lo sforzo di fare della diplomazia una, diciamo, una strada per l'incontro. Anche qui il Papa sottolinea molto la dimensione della cultura dell'incontro, quindi l'uscire dall'isolamento, no? E incontrarsi, perché solamente incontrandosi ci si può capire, ecco, ci si può accettare e si può collaborare. Un secondo aspetto, mi pare, l'incontro, la solidarietà, ecco, e il prendersi a cuore, in terzo aspetto, il prendersi a cuore le situazioni degli altri, no? Contro questa cultura dell'indifferenza che egli continua a denunciare. Prendersi a cuore, ancora una volta, delle singole persone, delle loro situazioni di sofferenza. In fin dei conti, potremmo dire che il principio di una diplomazia umana è l'amore, è l'attenzione alla persona, è l'amore per ciascun essere umano che viene in questo mondo. In un contesto internazionale, quale apporto specifico può fornire la diplomazia vaticana? Può aiutare ad allargare gli orizzonti del dialogo e della mutua comprensione? Sì, certamente. Io credo che questo è il nostro compito. Questo è sempre stato il compito della diplomazia vaticana, no? E in questo momento, in cui ci sono così tanti conflitti, in cui, ecco, il mondo vive tante lacerazioni, ecco, tante contrapposizioni, io credo che siamo chiamati più che mai a promuovere e a consolidare questo incontro, questo dialogo e questo rispetto gli uni degli altri. Io credo che una sfida, una delle sfide principali del mondo di oggi, quando le diversità si sono ravvicinate, si sono incontrate e possono dare origine a degli scontri, no? A dei conflitti. Ecco, la grande sfida anche della diplomazia ecclesiastica, come di tutte le diplomazie, è far sì che queste differenze, queste diversità, che possono essere politiche, culturali, religiose, eccetera, non diventino motivo di contrapposizione e di lotta, ma di arricchimento reciproco. Ecco, trovare la strada proprio perché possiamo arricchirci con le nostre diversità. e questo mi pare che è il compito della diplomazia in genere e della diplomazia vaticana in particolare. Quali sono le aree geografiche dove la Santa Sede deve investire maggiormente? Quali sono i traguardi che possiamo enumerare di questi ultimi anni? Il Papa, come padre e pastore della Chiesa Universale, ha a cuore tutte le situazioni. Ecco, in qualsiasi parte del mondo ci siano difficoltà e sofferenze, ecco, i contrasti. Il Papa là è presente con il suo cuore di rappresentante del Signore. Ma direi che, per quanto riguarda l'Europa, mi pare che questa è un'area che merita attenzione, soprattutto per quello che concerne la costruzione di una casa europea. Ecco, è molto importante questo, dove la Chiesa può dare un suo contributo perché ci sia un'animazione di valori. Ecco, questa casa non sia soltanto una costruzione politica o economica, ma sia una costruzione e una condivisione di valori profondi che stanno nell'anima dell'Europa e che furono un po' i motivi ispiratori anche dei padri dell'Europa. Però certo, oggi l'attenzione si sposta soprattutto nel sud del mondo ed allora ecco l'attenzione a quelle realtà del sud del mondo, diciamo, dove ci sono, dove esistono conflitti e dove la prima, il primo impegno è proprio quello di aiutare a ritrovare la pace, una pace che sia, diciamo, la base, il fondamento anche per uno sviluppo umano integrale. di aiutare a ritrovare la pace, di aiutare a ritrovare la pace, di aiutare a ritrovare la pace, la pace che si sposte durante il mondo,